Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo per il fine settimana. Guardando le mappe di pressione in quota si osservano tre strutture, una profonda bassa pressione sull'Europa nord orientale, un minimo depressionario a largo del Portogallo ed un'area di alta pressione centrata sulle isole britanniche. Nel corso della giornata di sabato un corridoio di alta pressione si viene a creare sull'Italia, convogliando aria secca e terza sulla nostra regione. Sono quindi attesi i cieli limpidi sulle nostre montagne, con una ventilazione pressoché assente. Al più qualche debole raffica da sud-est soffierà sui rilievi meridionali. La quota dello zero termico si mantiene stazionaria sui 2100-2200 metri, mentre le temperature sono attese in marcato aumento, ma con minime ancora ovunque al di sotto dello zero. Domenica il corridoio di alta pressione tende a spezzarsi ed il flusso in quota si dispone da sud-ovest, apportando progressivamente aria più umida sul basso Piemonte. Andando nel dettaglio, la mattinata sarà ancora ben soleggiata ovunque, mentre nel corso del pomeriggio nubi medio-alte si addenseranno sui rilievi meridionali. Sui restanti settori alpini permangono condizioni di bel tempo. La quota dello zero termico subisce una debole flessione in serata fino a 2000 metri, mentre le temperature tendono ad aumentare di un paio di gradi. La ventilazione è generalmente nebole da sud-ovest, con rinforzi moderati sulle Alpi marittime e Liguri. E con questo è tutto! Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare gli aggiornamenti meteorologici sul sito dei Rischi Naturali di Arpa Piemonte o sulla pagina di Meteovetta. Un saluto e buon weekend! Un saluto e buon weekend! Grazie a tutti.